Lasciare sempre il segno, dare di sé l'immagine migliore, ricordare e farsi ricordare. Sono tutte doti naturali delle donne, ma per valorizzare ogni singola scelta e curare ogni dettaglio, c'è al tuo fianco un professionista che da tanti anni soddisfa ogni esigenza. Infinity Boutique, veste tutte le taglie fino alla 52, il posto ideale per curare ogni look femminile con i grandi marchi. Flygirl, VG, Vomix, Piero Guidi, da noi trovi i capi sartoriali e tutto quello che ti occorre per vestire al meglio la tua immagine. Infinity, abbigliamento donna di Angela Maisano, Via Peppino Surfaro 137, Angolo Corso Garibaldi, Melito Porto Salvo.